Sarebbe bello poter tornare ad ambire per determinati obiettivi, è chiaro che il percorso non è immediato, non è semplice, credo però che la Fiorentina abbia in rosa dei giocatori che possono ambire perlomeno a crescere fino a quel punto. Credo che la scelta tecnica sia stata fatta in quel senso, per poter valorizzare tutti i giocatori che abbiamo in rosa. Se guardiamo il lavoro che ha fatto il Ministro negli scorsi anni, vediamo che sono stati valorizzati tutti i giocatori dal primo all'ultimo e credo che possa farlo anche con tutti noi. Quindi è quello che ci auguriamo tutti. È chiaro che non è semplice, dopo qualche annata arrugginita, rifarsi sotto a un obiettivo così importante, però sono convinto che le classifiche degli ultimi anni non rendano assolutamente onore a questa squadra.